Sto preparando qualcosa da mostrare a tutto il mondo. Tu ti senti pronto? Io sono pronto a seguire il volere di mio padre. Giovanni, attento a ciò che fai. Quello è il Battista. Dammi la mano. Sacrilegio! Il figlio dell'uomo è signore anche nello Shabbat. Il figlio del... The Chosen, ogni lunedì alle 20 e 55.